. Belen Rodriguez al Maurizio Costanzo Show parla di Francesco Monte Belen al Maurizio Costanzo Show, le parole su Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia. . Ospite del Maurizio Costanzo Show insieme al fratello Jeremias, Belen Rodriguez non ha potuto non nominare l'ormai ex cognato Francesco Monte. La rottura tra l'ex tronista di Uomini e Donne e Cecilia Rodriguez continua a far parlare gli italiani e, al di là di come è finita tra i due, la conduttrice di Tossi Quevales continua a voler bene al Tarantino. A farlo sapere la stessa ex moglie di Stefano De Martino che a Costanzo ha confidato che il bene non finisce mai, al di là di quello che succede nella vita. . L'Argentina ha dunque confermato di essere rimasta in buoni rapporti con Monte, come rivelato qualche settimana fa dallo stesso pugliese. . Francesco ha pubblicamente ammesso che Belen gli è stato molto vicino in questa spiacevole situazione, la showgirl è stato un punto fermo in questo periodo decisamente turbolento. . . Belen e Francesco Monte sono rimasti in buoni rapporti. . Il bene non finisce mai ha chiarito Belen Rodriguez a Maurizio Costanzo. . Quest'ultimo ha tirato in ballo Francesco Monte, chiedendo a Jeremiassi i suoi attuali rapporti con l'ex fidanzato di Cecilia. . L'ex concorrente del grande fratello Vipa ha rimarcato di non avere alcun problema con il coetaneo e a rincarare la dose ci ha pensato la sorella Belù, che ha spiegato che non si finisce di voler bene da un giorno all'altro. . Del resto Francesco ha condiviso molto con la famiglia Rodriguez nel corso degli ultimi quattro anni. . E lo scorso settembre ha presenziato al compleanno dell'ex fidanzata di Andrea Iannone da solo, senza Cecilia all'epoca ancora impegnata nella casa più spiata d'Italia. . Francesco Monte ha ringraziato Belen Rodriguez. . . Purtroppo io e Belen abbiamo dovuto vivere insieme questa situazione. . Mi è stata molto vicina. . Ma ci tengo a dire che conservo un buon rapporto con tutta la famiglia di Cecilia ha fatto sapere nei giorni scorsi Francesco Monte. . . Dichiarazioni confermate dalla stessa Rodriguez che, tra le tante cose, continua a seguire sui social network il ragazzo e a lasciare like alle sue foto. . Un atteggiamento ricambiato da Monte che, al contrario, ha preferito smettere di seguire Cecilia su Instagram. . . .